ELEZIONI REGIONALI ELEZIONI REGIONALI I sindacati chiedono un incontro urgente al prefetto. E come ogni venerdino perdete l'appuntamento con le previsioni del tempo per il fine settimana a cura del nostro esperto Gaetano Brindisi. ELEZIONI REGIONALI del 21 e 22 aprile. Questa mattina la coalizione di centrosinistra guidata da Piero Marrese ha presentato il programma elettorale con la Sanità al primo punto. Mentre Basilicata Casa Comune e Movimento 5 Stelle pongono l'accento anche su legalità e welfare. Facciamo il punto con Michelangelo Russo. 15 parole chiave in 55 pagine. 5 impegni considerati imperlenti. Presentato stamani il programma elettorale della coalizione centrosinistra in vista del voto del 21 e del 22 aprile. Prossimi al tavolo oltre al candidato presidente Piero Marrese e i vertici dei partiti che condividono il progetto politico. Pochi dubbi sulle priorità come già rivelato a più riprese. Marrese considera il piano sanitario regionale un provvedimento urgente da adottare nei primi sei mesi di legislatura in caso di elezione. Nei primi sei mesi la nostra intenzione è recuperare i cinque anni in cui non è stato fatto nulla mettendo al centro proprio il sistema sanitario andando a migliorare i servizi partendo dal territorio quindi una sanità di prossimità lavorando nel migliorare e rafforzare le specializzazioni presenti nelle nostre strutture in modo tale da poter essere più attrattivi e far sì che le risorse, incendi che la regione Basilicata spende per le cure fuori regioni possono essere recuperate e reinvestite sul territorio. Basilicata Casa Comune pone l'accento anche su legalità e trasparenza. I venti candidati hanno infatti sottoscritto ieri un documento con impegni precisi per quanto concerne eventuali nomine e incarichi. C'è bisogno di una svolta, c'è bisogno di un impegno concreto. Ci sono alcuni abusi che sono stati fatti che dobbiamo assolutamente condannare e di fronte agli elettori dobbiamo poter dare la certezza che le scelte che saranno fatte saranno fatte per il merito e non perché c'è un'appartenenza politica. Il Movimento 5 Stelle ha invece accolto ieri pomeriggio il candidato alle prossime elezioni europee Pasquale Tridico, ex presidente dell'Inps, che ha acceso i riflettori sulle criticità nel sistema del welfare. La proposta di un reddito di cittadinanza regionale oppure quando verranno i nodi anche in termini europei il welfare di cittadinanza europea. Noi viviamo in società ricche e avanzate che devono porsi il problema del reddito minimo. Ovunque ci siano azioni di governo e se le azioni di governo superiori come l'Italia o l'Europa non provvedono a redditi di ultimistanza, questi devono almeno essere sostenuti a livello locale. Per il centro-destra invece questa mattina a Matera la visita del sottosegretario alla salute Marcello Gemmato, che ha preso parte all'inaugurazione della seconda sala di emodinamica all'ospedale Madonna delle Grazie e ha ricevuto una delegazione della FIAS e dei lavoratori del centro geriatrico dopo la sospensione delle attività. Sentiamo Celestino Benedetto. Dal CROB al Madonna delle Grazie le visite in Basilicata di esponenti del centro-destra in vista delle ormai imminenti elezioni regionali del 21 e 22 aprile, passano ancora una volta dalle strutture sanitarie. Questa mattina è stata la volta del sottosegretario alla salute Marcello Gemmato, che ha preso parte prima ad un workshop promosso dall'ASM e poi all'inaugurazione della seconda sala di emodinamica dell'ospedale della città dei Sassi, ricevendo anche una delegazione della FIAS Matera, del Comitato Parenti e Garanti e dei Lavoratori e del Centro Geriatrico di Matera, che hanno annullato pertanto il sit-in inizialmente previsto per chiedere risposte sulla sospensione delle attività della struttura, in merito alla quale anche il sindaco Bennardi ha espresso preoccupazione per le sorti di pazienti e dipendenti dopo la mancata firma del contratto di convenzione. La campagna elettorale del centro-destra proseguirà tra oggi e domani tra Lauria, Matera e Potenza. Nel centro dell'area sud sarà presente il capogruppo alla Camera di Azione, Matteo Ricchetti, mentre nella giornata di domani il ministro per gli affari europei e per il sud, Raffaele Fitto, sarà dapprima a Berrieri di Matera per poi trasferirsi nel capoluogo di regione per un incontro elettorale ed una conferenza stampa. La cronaca era originario di Potenza ma viveva da tempo a Pistoia Antonio Morra, il 47enne che ha perso la vita ieri sera dopo il concerto dei Subsonica a Firenze che aveva seguito in compagnia della moglie. L'uomo avrebbe avuto una lite con un altro spettatore all'uscita che lo avrebbe spinto giù dalle scale procurandogli gravi ferite alla testa. Purtroppo inutile ricovera l'ospedale Careggi dove Morra è deceduto poco dopo. Sull'accaduto indaga la polizia che sta esaminando i filmati delle telecamere di videosorveglianza del Mandela Forum per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e risarire al responsabile dell'aggressione. Restiamo alla cronaca ma ci spostiamo a Melfi dove il sindaco Maglione annuncia la volontà di conferire un encomio ufficiale a Vincenzo Corbo il giovane barista che ha salvato la vita di una ragazza aggredita mercoledì mattina da un ex collega di lavoro venendo a sua volta colpito. Ce ne parla Vittorio Laviano. Dopo lo spavento per l'aggressione in pieno centro subita da una ragazza di 29 anni colpita con un coltello dal 44enne Giulio Cordisco e salvata da Vincenzo Corbo, gestore di un bar in viale d'annunzio rimasto ferito anche egli ora la città di Melfi tira un sospiro di sollievo per le condizioni di salute dei due ragazzi. I giovani sono ricoverati ancora negli ospedali di Potenza e Melfi dove sono stati operati con successo. Intanto l'amministrazione comunale sta pensando ad un riconoscimento ufficiale per colui che ha letteralmente salvato la vita della ragazza Vincenzo Corbo che è diventato un eroe simbolo di un'intera città. Il sindaco Giuseppe Maglioni. Siamo ancora scioccati naturalmente anche con l'occasione per fare appunto gli auguri di pronta guarigione non solo a Vincenzo ma anche a Elenia la ragazza. Ecco sì sottolineiamo io dico questo gesto eroico da parte di Vincenzo che ha messo a rischio la sua vita per salvare quella appunto di questa ragazza. Teniamo presente che Vincenzo addirittura ha un bambino insomma di pochi mesi quindi questo esalta ancora di più l'importanza insomma del suo gesto è chiaro anche noi saremo pronti insomma innanzitutto ad andarlo subito a trovare appena starà meglio ecco appena ci sarà possibilità di fare le visite andarlo a trovare anche in maniera ufficiale per esprimere la vicinanza e la solidarietà della mia personale ma di tutta l'amministrazione ma di tutta la cittadinanza che è rimasta veramente colpita da questo gesto. La stessa cosa faremo naturalmente per la ragazza e penseremo appunto ad un riconoscimento. Ed il primo cittadino conosce benissimo il padre di Vincenzo e la mamma della ragazza. Ho sentito sia con Antonio con la mamma di Ileni abbiamo lungamente parlato anche lui è rimasto scosso e scioccato però ecco il lieto fine insomma attenua un po' tutte le angosce le ansie le paure attenua le ansie però rimane ancora evidente in prima persona il gesto importante che lui ha fatto e questo che ci teniamo a sottolineare. Melfi è un nuovo eroe popolare? Sì, Melfi ecco c'è questa indole melfitana in effetti questa voglia abbiamo questo basilisco che è il nostro simbolo della città di Melfi con questo sguardo fiero orgoglioso, questa testa alta come sono tutti diciamo i cittadini melfitani e Vincenzo è l'esempio lampante insomma di questo basilisco. E intanto sul fronte dell'inchiesta sui fatti di Melfi questa mattina il 44enne di Rapolla Giulio Cordisco difeso dagli avvocati Fabrizio e Gallucci accusato di tentato omicidio si è presentato davanti al GIP del Tribunale di Potenza Salvatore Pignate al pubblico ministero Sara Masecchia per l'udienza di convalida dell'arresto durante la quale si è però avvalso della facoltà di non rispondere. L'uomo si trova rinchiuso nel carcere di Potenza proseguono intanto le indagini con la procura che ha disposto una consulenza tecnica per valutare la gravità delle ferite riportate dai due giovani in seguito all'aggressione accertamente attraverso i quali la procura vuole acquisire elementi fondamentali per delineare un quadro accusatorio ancora più preciso nei confronti del 44enne. Restiamo alla cronaca giudiziaria ma ci spostiamo a Matera con la sentenza di primo grado relativa al presunto traffico di droga tra il Marocco e la città dei Sassi venuto alla luce nel 2018 con l'operazione Rosso di Sera in primo grado emesse condanne per 47 anni di reclusione con il Tribunale che ha accolto soltanto in parte le richieste dell'accusa come ci spiega Luca Tamburrino. Cade l'accusa più pesante, quella di associazione a delinquere ma le pene per il presunto traffico di droga tra il Marocco e Matera restano elevate. Il Tribunale della città dei Sassi ha inflitto in primo grado con danni per complessivi 47 anni di reclusione meno della metà rispetto alle richieste del PM Anna Gloria Piccinini nei confronti di 11 persone ritenute responsabili a vario titolo dispaccio di marijuana, ascisce e cocaina danneggiamento, detenzione di armi ed esplosivi e spendita di banconote false questo l'esito del processo di primo grado scaturito dall'operazione denominata Rosso di Sera coordinata dalla DDA di Potenza che nel maggio del 2018 portò a 17 misure cautelari la pena più alta, 9 anni, è stata inflitta a Pasquale Cifarelli e Nicola Pisciotta accusate di aver avuto un ruolo importante nel traffico di stupefacenti la droga, secondo quanto emerso dalle indagini arrivava principalmente dal Marocco attraverso l'intermediazione di alcuni cittadini nordafricani per uno di loro, Marie Glenn Kerkuku è arrivata alla condanna a 7 anni di reclusione dalle indagini era emersa anche una traccia investigativa sugli attentati dinamitardi che avevano interessato tra la fine del 2015 e l'inizio del 2016 diversi esercizi commerciali di Matera in questo caso le indagini si erano concentrate sul materano Nicola Stasi condannato a 8 anni per un paio di attentati sventati e richieste estorsive ma senza l'aggravante del metodo mafioso la droga proveniente dal Marocco arrivava in Basilicata attraverso la Spagna e la Francia dove gli imputati potevano contare sull'appoggio di persone di fiducia per 3 di 14 imputati è arrivata la soluzione mentre le altre condanne vanno da un anno e due mesi a 6 anni una donna afghana di 28 anni incinta nella serata di ieri ha avvertito forti dolori mentre viaggiava a bordo di un autobus che transitava lungo il tratto lucano dell'autostrada A2 i passeggeri hanno prontamente allertato il 118 che ha inviato sul posto un'ambulanza ma non c'è stato il tempo di arrivare in ospedale e il bambino è venuto alla luce a bordo del veicolo di soccorso mamma e figlio stanno bene e sono ricoverati nel reparto maternità dell'ospedale di Lago Nigro le notizie dal mondo del lavoro con l'avvertenza che interessa i lavoratori dell'area di servizio di potenza sul raccordo autostradale dopo i dipendenti del distributore di benzina a rischio ora anche quelli del Burger King in 12 rischiano di andare a casa entro fine mese il servizio di Lucia Pietrafesa rischiano di andare a casa entro la fine di questo mese i lavoratori dell'area di servizio Autogrill Burger King di Potenza che ha sede lungo la carreggiata sud del raccordo sicignano Potenza ci sarebbe bisogno di lavori di ammodernamento ma l'azienda in un incontro con i sindacati ha detto a chiare lettere di non voler investire nel sito per la precarietà dell'area di servizio stessa che comprende anche una stazione di rifornimento carburanti una vicenda che lo ricordiamo coinvolge anche l'ANAS che nei mesi scorsi ha chiesto l'applicazione di canoni alla Lucana Carburanti come royalty per l'occupazione del suolo a dicembre il comune di Potenza si era detto favorevole alla declassazione della strada da statale a comunale per eliminare il problema finora però nulla si è mosso nelle scorse ore l'annuncio per i 12 dipendenti del Burger King del taglio di 72 ore settimanali tutti dovranno passare da 24 a 20 ore o trasferirsi all'area di servizio di Sala Consilina per i sindacati si tratta solo dell'anticamera della chiusura dell'autogrill che tradotto significa posti a rischio non solo per i lavoratori del Burger King ma anche del distributore di benzina e dell'hotel di qui la richiesta di un incontro urgente a comune prefetto per tentare di salvaguardare tutti i posti di lavoro in totale una quarantina e siamo alla pagina sportiva con il calcio di Serie C domani pomeriggio alle 18.30 sfida fondamentale in chiave salvezza per il Potenza che ospita al Viviani il Foggia a testimoniare l'importanza della partita l'iniziativa della società che ha lanciato prezzi popolari per riempire lo stadio e garantire il massimo sostegno ai ragazzi di mister Marchionni che ha presentato così nella tradizionale conferenza stampa della Vigilia la partita di domani sapete quanto sono legato al Foggia però adesso è una partita particolare di emozioni ci sarà ma ho avuto la fortuna che le emozioni riesco a metterle da parte quindi dobbiamo concentrarci che è una non è una finale ma molto di più è una partita da portare a casa a tutti i costi con il massimo risultato non ci deve essere bel gioco non ci deve essere nulla se non la consapevolezza che con la voglia con la determinazione e con la passione si deve portare a casa il massimo risultato e basta ho parlato molto con i ragazzi gli ho fatto capire che ora non conta diciamo l'idea di Marchionni per la partita conta la loro interpretazione il pensare in modo pulito il pensare in modo sicuro perché ora come ora gli schemi tutto quello che può servire va in secondo piano mi ho fatto capire che adesso è tutto quello che è dentro da parte mia è tutto ma come ogni venerdì vi lascio in compagnia di Gaetano Brindisi per le previsioni del tempo per il fine settimana grazie come sempre per essere stati con noi a tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata Buongiorno a tutti una situazione primaverile molto anomala dopo un inverno quasi inesistente la primavera sta mostrando lati soprattutto estivi piuttosto che invernali la perturbazione attesa che avrebbe dovuto portare un po' di pioggia sul meridione è andata praticamente da nord a sud verso l'Africa dove ha portato molte piogge sta portando molte piogge in questi giorni all'ambito appena le coste tirreniche della Basilicata qualche debole pioggia insomma ci aspettavamo qualcosa di più e ora torna addirittura un'altra ondata di caldo già oggi le temperature sono decisamente sopra le medie e purtroppo abbiamo valori sempre costantemente tipici di almeno un paio di mesi di anticipo quindi siamo le temperature di questi giorni sono quelle di giugno almeno per le aree interne poi magari sul mare le acque ancora più fresche riescono a mitigare questa aria calda che viene dall'Africa però ci aspetta un altro fine settimana l'insegno del caldo in attesa di un rimescolamento generale e passeremo vedremo poi con la cartina degli spaghetti passeremo da una situazione simile estiva a una simile invernale quindi avremo un crollo netto delle temperature per il momento vediamo la penosa situazione delle nostre montagne vi ho fatto vedere nelle settimane scorse il silino settimana scorsa almeno c'era qualcosina un po' più bianco rimasto veramente sono rimaste delle piccole strisce di neve davvero assurdo trovare una situazione a soli 20 giorni dall'ingresso della primavera avremmo dovuto trovare tutta la montagna bianca impianti aperti le sciovie almeno fino a metà a metà aprile sono normalmente aperti invece non c'è neve vedete le cime del silino a 2000 metri veramente sembrano sembra di essere fine giugno inizio luglio ecco a volte a inizio luglio si trovano ancora delle piccole strisce di neve siamo ad aprile e certo non depore bene per la situazione idrica perché non c'è neve sulle nostre montagne chissà che a aprile almeno ad alta quota la neve voglia tornare abbondante potrebbe anche essere intanto vediamo l'immagine del satellite che ci mostra una situazione di ancora una volta vedete l'aria fredda sull'Atlantico rimane sempre lì però magari si è spostata un po' più a sinistra verso l'America e questo fa sì che l'anticiclone riesca a prendere un po' di piede sulle zone dove c'è la prima aria più fredda quindi al largo del Portogallo sul Marocco occidentale e quando l'alta pressione va verso l'Europa occidentale come in questo caso arriva dell'aria fredda da nord quindi favorisce dell'aria fredda che è ancora in formazione questa discesa ma vedete sulla Scandinavia comincia a esserci già dell'aria fredda che nel giro di diciamo 4 giorni 3-4 giorni comincerà ad arrivare anche sull'Italia a partire dal nord sull'Africa è quella depressione di cui vi dicevo prima perturbazione che avrebbe dovuto colpirci in modo almeno un po' più diretto almeno sul sud Italia invece ha colpito il nord parte del centro Sardegna e poi è andata in Africa dove sta nevicando anche sulle montagne dell'Algeria a oltre 1300-1400 metri piogge molto forti che sono sempre utili su quelle zone dove normalmente c'è alta pressione invece l'alta pressione ce l'abbiamo noi ormai l'abbiamo adottata in modo permanente vediamo lo zoom sull'Italia e ci mostra appunto una leggera velatura ecco è la parte la propagine della depressione le nuvole più bianche sono quelle che danno fenomeni intensi mentre questa lunga nuvolosità è una specie di fronte caldo se vogliamo che gira intorno alla depressione rimarrà sulle nostre teste vedete sulle zone tirreniche soprattutto mentre tutta la parte adriatica dell'Italia è senza nubi notate la tanta neve che è caduta sulle Alpi praticamente nella parte centro-occidentale soprattutto e le montagne sono pieni di neve a partire dai 1500-1800 metri tantissima neve come non si vedeva da tanti anni mentre il nord-est vedete proprio è senza neve le montagne anche ad alta quota hanno pochissima neve come tutta la zona adriatica ionica dove non è piovuto per niente quest'anno ci sono zone dove la pioggia è latita da diverse settimane speriamo che questa perturbazione che arriverà una settimana prossima porterà piogge un po' più generalizzate vediamo la situazione per oggi quindi con l'aiuto della grafica di Meteo 7 vedete il sole con quella velatura velatura che non è presente come abbiamo visto sulla parte nord della Basilicata mentre è presente ancora sulla parte occidentale la parte centrale in mattinata già è stata liberata man mano le nuvole vanno per essere richiamate da questa depressione sull'Africa e quindi anche queste velature andranno via quindi una giornata all'insegna del sole su gran parte della regione con un po' di nubi alte che vanno esaurendosi però le temperature come dicevo sono tornate su valori tipiche di giugno valori tipici di giugno 22 a potenza 25 a matera insomma è inutile stare a commentare dovremmo essere intorno ai 12 gradi a potenza e ai 15 a matera vedete la differenza insomma siamo davvero su valori anomali le minime anch'esse sono piuttosto miti 8 gradi a potenza e 11 a matera avremmo dovuto trovare questa mattina intorno ai 5 gradi 4 gradi 5 gradi a potenza e 8 7-8 gradi a matera notate voi stessa la differenza andiamo a vedere la giornata di domani questa nuvolosità va via va scendendo ancora di più verso l'Africa e quindi si libera il cielo qualche residuo velatura in mattinata sulle zone tirreniche per il resto una basilicata all'insegno del tempo stabile soleggiato caldo caldo soprattutto nelle zone interne perché il mare vedete Maratea 21 gradi la temperatura prevista sulla città Marateota mentre nell'interno le temperature sono decisamente più alte 26 gradi a senise 27 gradi a pisticci potenza sale un altro grado rispetto ad oggi 23 anche 24 gradi materia 26 insomma valori da pieno giugno sicuramente la ventilazione è debole e i mari sono praticamente calmi o quasi calmi appena appena un po' mosso l'olio il tirreno ma in via di attuazione ci spostiamo la domenica si consolida questa alta pressione arriva dell'aria calda da sud quindi forse i cili cominciano a essere un pochino ingialliti dalla presenza di nubi alte stratificate o addirittura dalla presenza di sabbia ma le temperature parlano da sole 28 gradi diffusi sul materano 25 gradi a potenza 27 Melfi Genzano 28 29 Lavello Venosa insomma avremo avremo valori estivi si può dire estivi perché sicuramente quando ci avviciniamo ai 30 gradi non si può parlare certo di primavera ma sicuramente di estate solo sul tirreno qualche nube in più insomma vedete là le temperature rimangono appena appena più basse ma decisamente anomale e ci spostiamo a questo punto all'inizio della settimana quando ci sarà un cambio netto come dicevo aumentando lunedì ecco questa è una situazione che in quota forse arriverà ancora più calda però ci saranno una maggiore nuvolosità soprattutto alte stratificate che potrebbe portare quella a qualche diminuzione locale 1-2 gradi in meno ma non cambia niente ripeto in quota saranno le giornate più calde lunedì e martedì mattina quindi se andiamo con un termometro a 2000 metri troveremo temperature forse più alte rispetto alle zone di pianura proprio perché in quota ci saranno queste correnti calde con temperature di circa 17 gradi a 1500 metri di quota valori che sono tipici di luglio non certo di aprile quindi questa è la situazione vi dicevo di questo cambiamento previsto per la metà della settimana prossima ci viene in aiuto la cartina degli spaghetti la linea bianca ricordo racchiude i 20 scenari possibili chiamati spaghetti mentre la linea rossa è la temperatura storica a 1500 metri di quota che in questo momento dovrebbe essere intorno ai 4-5 gradi e invece vedete dove arriva lunedì lunedì proprio come dicevo lunedì pomeriggio lunedì notte avremo valori di circa 16 anche fino a 17 gradi a questa quota quindi temperatura è decisamente al di sopra delle medie la parte bassa del grafico non porta assolutamente precipitazioni invece nel giro di 24 ore massimo 36 ore tra martedì pomeriggio e mercoledì pomeriggio avremo un crollo di stimato intorno ai 13 14 fino a 15 gradi di differenza quindi passeremo dalle magliette a maniche corte ai cappotti perché farà davvero freddo le temperature si porteranno sotto le medie cosa strana quest'anno perché abbiamo avuto sempre sopra le medie e ritornano anche a farsi vedere le precipitazioni quindi ci aspetta una metà settimana prossima all'insegna del freddo sicuramente le temperature crolleranno quindi torneremo a indossare abiti pesanti finiscono le giornate estive si può dire che torniamo in primavera ma in fine inverno anche perché avremo di nuovo il ritorno della neve in montagna quanto meno oltre i mille metri poi bisogna vedere se l'aria fredda colpirà più direttamente la Basilicata e si potrebbe anche scendere qualche cosa un po' al di sotto dei mille metri però rivedremo le nostre montagne attualmente non sono previste precipitazioni abbondantissime però poi naturalmente poi strada facendo la depressione può anche formarsi al sud però quello che è certo ritornano un po' di pioggia ritornano le nevicate in montagna tornerà il freddo e finirà questa fase estiva fuori stagione che purtroppo ha fatto fiorire tutto ormai quindi le gelate sono imminenti bisognerà davvero correre ripari per evitare danni alle colture perché ormai insomma la natura è partita abbiamo un mese un mese e mezzo d'anticipo e col freddo in arrivo il rischio gelato è davvero alto non mi resta che augurarvi buona giornata vi auguro buon fine settimana e buon proseguimento con i programmi della Nuova TV e buon fine settimana